Ce ne faremo una ragione, non soffriamo certamente di solitudine per cui non abbiamo problemi e d'altronde questa è la ragione per cui Monti è sceso in campo o è salito in politica come si suol dire, perché ha deciso di fare questa scelta, perché il PDL dopo aver collaborato con Monti è ritornato ad abbracciare la Lega, il PD ad abbracciare Vendola, dice un proverbio va dove ti porta il cuore, non potevamo impedire a Bersani di andarsi a ricongiungere con Vendola e lo ha fatto, è una scelta sua, auguri e buon lavoro.